l'unica sessione in realtà della seconda parte del pomeriggio in track 3 siamo in compagnia di enrico maioli e alessandro violini che ringrazio perché sono qui li presento brevemente allora enrico maioli e alessandro violini lavorano entrambi per flowing che è una web agency di non mi ricordo dove è completamente remota quindi non c'è un dove ottimo perfetto la prima la prima scemenza l'ho già detta no no ma è guarda tutte le volte che ci chiedono ah sì dove lavori e io dal salotto che è diventato comune in realtà nell'ultimo periodo enrico è lo ux designer o uno degli ux designer più probabilmente di questa web agency mentre alessandro è uno ui developer un interaction designer e un web accessibility specialist e uno dei partner proprio di di flowing enrico e alessandro ci presenteranno una sessione dal titolo lo smart speaker per rendere più accessibile l'esperienza d'uso del tuo software e di cosa parleranno in sostanza beh sappiamo che le interfacce vocali hanno creato nuovi modi di accedere interagire con contenuti e funzionalità specialmente per le persone con disabilità visive o motorie anche temporanee quindi non solo quelle disabilità permanenti a cui siamo abituati tra virgolette partendo da supposizioni di intenti e casi d'uso e arrivando fino alla convalida delle loro ricerche con test effettuati anche con l'aiuto di persone con disabilità visive enrico e alessandro ci racconteranno come hanno progettato l'interfaccia conversazionale di un software di business intelligence in cui normalmente sono predominanti tabelle grafici che però ovviamente non sono il contenuto più semplice da presentare correttemente attraverso una conversazione vocale enrico e alessandro sono già iscritti su disco vanno già invitato a fare tante domande da lì non deludeteli mi raccomando ricordo ai docenti che per ricevere l'attestazione dei crediti trovate le informazioni nella descrizione della track su youtube e nella chat su zoom il codice da inserire per questa sessione è 21.317 21.317 e a questo punto vi lascio campo libero buona presentazione grazie allora condivido lo schermo ditemi se si vede tutto correttamente un fermo che arriva io mi tolgo il video e subentrerò dopo al mio momento ok allora intanto cominciamo allora grazie grazie mille a stefano per la presentazione quindi iniziamo con con il nostro speech con nostro la nostra presentazione di cosa parliamo l'ha già detto l'ha già detto stefano quindi l'idea è proprio di parlare di smart speaker in senso più ampio parleremo di interfaccia vocale proprio con l'obiettivo di rendere più accessibile l'uso di un software in particolare anche proprio di migliorare l'esperienza no per renderla più accessibile quindi racconteremo un po un po di dati un po di informazioni per comprendere appunto la parte di interfaccia vocale e poi andremo nello specifico l'obiettivo proprio di andare nello specifico e mostrare un caso sul quale abbiamo lavorato e come l'abbiamo fatto quindi mostrarvi proprio nel modo più pratico e concreto possibile come come l'abbiamo come abbiamo sviluppato e come qual è stato il processo di progettazione quindi partiamo con gli sponsor che ringrazio ringrazio tutti perché ovviamente ci fa piacere essere ospiti in una conferenza del genere quindi grazie a loro che ce lo dire ce lo consentono in particolare so che non è una cosa che si fa normalmente ma vorrei soffermarmi su architeta di cui sono socio sostenitore e anche ambassador per cui veramente grazie alla mia la mia società di architetta insomma che è una società un energy bene parliamo di che cosa a questo punto di avremo la discussione divisa in due parti staremo in circa 40 minuti nella prima parte parlerò parlerò io e quindi parlerò di interfaccia vocale di dati di dispositivi vantaggi e problemi opportunità e nella seconda parte invece approfondirà alessandro con tutti gli altri punti quindi cominciamo dal tema dell'interfaccia vocale ecco qui ho presente un'immagine dove mostro un pilota che sta guidando un aereo quindi che cosa vediamo in questa immagine c'è un pilota che ha le mani su quello che io chiamerei un volante non so un manubrio di un aereo non so esattamente come si chiama probabilmente una cloche e ha delle cuffie a un microfono e di fronte a sé il pilota che cosa vede vede tutto un pannello di controllo con dei monitor con degli indicatori dei pulsanti delle spie insomma diversi sistemi di controllo oltre che un vetro dal quale vede il paesaggio al di fuori dell'aereo quindi questo è proprio un esempio di che cos'è un'interfaccia quindi l'ho preso l'ho preso un po larga no per per apriare l'interfaccia però il senso è questo questo è l'esempio di che cos'è un'interfaccia proprio è un quella che noi chiamiamo una user interface una ui noi in acronimo quindi l'interfaccia che cos'è è proprio un sistema che mette in relazione l'uomo e la macchina e questo è un esempio secondo me molto molto chiaro dove l'uomo in questo caso ha proprio in input il comando no comanda la macchina attraverso dei dispositivi di input che in questo caso è la cloche appunto il manubrio chiamiamolo come vogliamo e il sistema risponde in qualche modo quindi probabilmente i monitor che ha di fronte al pilota danno un feedback danno in output mostrano dei cambiamenti gli indicatori le spie che sono di fronte anche sempre nel pannello di controllo evidenziano dei cambiamenti ci possiamo immaginare che anche in cuffia senta dei dei cambiamenti e infine vedrà anche di fronte a sé il paesaggio fuori dal finestrino che cambia quindi questo è proprio un esempio secondo me per far capire bene che cos'è una interfaccia e parliamo proprio quindi di input e di output quando parliamo di interfaccia vocale quindi l'esempio che viene in mente a tutti insomma quello più che ormai conosciamo tutti abbastanza bene sono quella che è utilizzata dai assistenti vocali ce ne sono tantissimi ormai come siri google assistant e alexa ed hanno proprio questa questa funzionalità sono interfacce vocali che ci aiutano a svolgere dei compiti l'interfaccia è cambiata tantissimo nel corso degli degli anni quindi ci sono stati tantissime evoluzioni nel corso degli anni ci sono stati dei tanti miglioramenti siamo partiti e in realtà non l'abbiamo mai abbandonata l'interfaccia linea di comando la classica tastiera che il mio amico alessandro che sviluppa assieme agli altri miei colleghi che sviluppa utilizza ancora per scrivere codice utilizza la classica interfaccia linea di comando l'interfaccia linea di comando quindi la tastiera ha il limite che per poterla utilizzare bisogna come dire saper scrivere e conoscere una sintassi un linguaggio che io stesso non conosco per la maggior parte dei casi e quindi non è interfaccia di per sé molto accessibile siamo passati già da diversi anni ad un'interfaccia molto migliore che è quella grafica che diciamo si sviluppa attraverso l'utilizzo del mouse quindi una graphic user interface che sfrutta proprio la metafora della scrivania quindi dove noi possiamo in qualche modo mediati dal puntatore del mouse trascinare un oggetto all'interno di una cartella e spostarlo quindi fare il drag and drop di un oggetto in una cartella o aprirlo facendo delle operazioni molto semplici e questo è già un'interfaccia che aggiunge un livello di naturalezza maggiore ed è già più accessibile ma possiamo dire che ci sono il passaggio successivo che abbiamo affrontato è quello delle cosiddette interfacce naturali che come dire aggiungono altri livelli punto di naturalezza come per esempio quella del touchscreen si parla quindi di interfacce naturali perché come in questo caso sfruttano delle competenze che come dire vengono insegnate a tutti fin dalla fin dalla nascita ecco perché sono diffuse negli esseri umani fin dalla nascita ovviamente con diversi livelli di abilità come in questo caso dove abbiamo un bambino che ha delle competenze anche a livello motorio che sono limitate ma gli è possibile comunque interagire con un tablet questo ci ha fatto ci fa proprio ragionare sul fatto che è un'interfaccia già più accessibile anche questa perché include un fascio di popolazione molto più ampia veramente molto differenti fino ad arrivare al a quella di cui parleremo oggi che è un'interfaccia vocale che è sempre un'interfaccia naturale che sfrutta quindi la voce il linguaggio come strumento per appunto interfacciarsi con il sistema sia in input che in output quindi per citare deming vorrei dare qualche dato sul valore di questa di questa interfaccia quindi senza dati sei solo una persona con un'altra persona con un'opinione quindi vorrei dare qualche qualche dato in più i dati non sono recentissime ma sono secondo me interessanti comunque quindi parliamo di praticamente due anni fa dicevano questi dati che provengono da da statista parlano di 66 milioni di persone negli Stati Uniti che posseggono uno che possiedono uno smart uno smart speaker perdono quindi parliamo del 20 per cento della popolazione un dato abbastanza importante rilevante dello stesso periodo un dato dello stesso periodo ci parla di del 42 per cento della popolazione mondiale quindi la popolazione mondiale che è online che ha utilizzato un dispositivo con un'interfaccia vocale nell'ultimo mese quindi parliamo sempre di due anni fa ma già capiamo quanto è effettivamente già utilizzata questa interfaccia e uno dice ma per fare cosa perché per quale motivo le persone usano l'interfaccia vocale cosa cercano no per cui fanno diverse domande alcune anche più assurde domande di tipo come dire informative e come qui in questa immagine che ho che cito del mio amico Paolo Zanzottera e poi vengono registrate le query delle domande tra cui questa no dove spariscono i calzini che tra l'altro no è una domanda che se qualcuno trova una risposta volentieri me lo venga a dire e quindi le persone cercano veramente tante cose dal su o grazie all'interfaccia vocale l'utilizzano per tante cose non solo per scopi informativi ma come dice questa ricerca di pvc l'aspettativa è che cominci a utilizzarle anche per fare acquisti quindi qualcosa che è già molto più un compito già molto più rilevante più significativo diciamo così rispetto a ricerche informative e dice appunto l'aspettativa il 10 per cento delle transazioni su mobile fatte con l'interfaccia vocale e finalmente arriviamo a un dato aggiornato cioè a marzo 2021 cioè oggi praticamente e sempre pvc ci dice che secondo alcune appunto ricerche fatte piuttosto recentemente il 37 per cento delle persone che ha fatto acquisti ripetuti giornalieri o settimanali nell'ultimo anno hanno usato delle degli degli smart home assistant quindi con le interfacce vocali il 37 per cento dei casi quindi praticamente il mentre nel 39 per cento uno smartphone quindi stiamo parlando di una penetrazione di questa interfaccia veramente rilevante quindi non stiamo parlando di un fenomeno di nicchia non stiamo più parlando di un fenomeno di nicchia il fatto che non è più un fenomeno di nicchia ce lo dice anche la ricerca le pubblicazioni e adesso entro un po nell'ambito che ci interessa di più oggi e cioè ci sono diverse pubblicazioni diverse ricerche su cui diverse pubblicate in portali che pubblicano ricerche scientifiche quindi consolidate e ve ne ho cito ve ne ho portate quattro come esempi più una che vedremo dopo che fondamentalmente vanno tutte in questa direzione danno un po sostegno all'importanza di questa interfaccia per esempio la prima dice l'utilizzo di interfacce vocali nell'assistenza nell'assistenza personale nella cura della persona nell'health care quindi ci sono già diversi casi d'uso di utilizzo in questo ambito nella seconda invece parla proprio nello specifico di delle tecnologie di smart voice quindi di interfacce vocali in anziani con problemi di vista con difficoltà visive nella terza una ricerca che evidenzia proprio i comandi utilizzati più frequentemente dagli utenti che hanno difficoltà visive quindi questo per farvi capire che c'è già una ricerca scientifica e un interesse già piuttosto ampio queste sono ricerche recenti c'è il link poi vi lascio per approfondire se volete l'ultima che vi cito la quarta così in anteprima è che ci sono cominciare anche degli studi riguardo all'interfaccia vocale in interazioni di gruppo quindi non solo più uno a uno ma all'interno di un contesto fatto da più persone in questo caso in questa in questi indagini parlava proprio con bambini e adulti e quindi era particolarmente interessante il dialogo tra bambini e adulti e l'interfaccia vocale e come come si razionavano tra di loro l'esempio su cui mi voglio focalizzare la ricerca che voglio portarvi oggi come esempio di appunto di quanto interessante questo ambito è proprio una ricerca che riguarda un'attività di co-design di co-progettazione in una scuola con lo scopo proprio di includere persone con differenti abilità visive in classe e fare in modo che la come dire l'educazione la didattica fosse condivisa da tutti gli studenti anche quelli che avevano diverse abilità visive competenze visive quindi che cosa facevano qui nell'immagine lo mostro hanno proprio portato degli smart speaker all'interno di alcune classi come progetto pilota in questo progetto alcuni smart speaker e facevano degli esercizi delle attività insieme agli studenti utilizzando appunto la voce quindi dei quiz dei giochi delle attività che potessero essere quindi condivise con la voce con tutti e qui c'è anche una foto in cui hanno modificato immagino che hanno modificato appunto uno smart speaker amazon eco di cui parleremo anche dopo l'hanno modificato appunto per aggiungere una parte di interfaccia di interfaccia insomma che potesse essere toccata insomma di tattile parliamo quindi di dispositivi con la vocal user interface quindi ci focalizziamo a questo punto su qual è la penetrazione dell'interfaccia vocale sui dispositivi alcuni sono arcinoti per cui c'è lo smartphone i wearables quindi come abbiamo i wearables parliamo per esempio degli smart watches o altri fitness bands ci sono diversi dispositivi che possono essere indossati e che hanno già delle interfacce vocali poi ci sono i computers ovviamente ci sono anche gli auricolari che di per sé non sono una vera e propria elemento con un'interfaccia vocale ma sono in qualche modo un'estensione del computer o di un o di un dispositivo ma che ci aiuta che rende più accessibile questa interfaccia proprio perché diventa quasi una un'estensione no un'estensione quasi cibernetica non so come dire un un ausilio no che facilmente al quale possiamo accedere facilmente perché ce lo mettiamo direttamente nell'orecchio lo possiamo anche addirittura attivare con la voce ma ci sono ci sono anche tutta una serie di gamma un'altra gamma di dispositivi per cui vi cito per esempio la smart tv i telecomandi i caschi no per la guida le lampadine le automobili ovviamente gli aspirapolveri anche qui io scoperto no facendo ricerche che ci sono addirittura gli aspirapolveri no che sarebbe bello no come dire e gli aspirapolveri vai lì a vai a pulire dove ha appena sporcato mio figlio no sarebbe fantastico e poi ovviamente ci sono gli smart speaker no che è l'argomento di cui parleremo parleremo dopo le approfondiamo dopo veniamo a questo punto a alla parte di interfaccia vocale quindi sei vantaggi che sono collegati all'utilizzo di un'interfaccia vocale il primo il primo è che dettare più veloce che scrivere le persone possono dettare quindi 150 parole al minuto contro 40 parole al minuto che possono essere dettate quindi nel mio caso che sono una schiappa a digitare con la tastiera probabilmente veramente io ne farei 20 probabilmente al minuto con la tastiera è tutte sbagliate quindi secondo me nel mio caso è particolarmente efficace sta parte qui altro vantaggio è che non è un necessario usare le mani quindi è ottimo in contesti per esempio quando si cucina a me capita di utilizzarlo quando cucino o quando le mani impegnate sporche quindi o quando evidentemente ho dei problemi nel di in ambito motorio quindi di tipo contestuale o temporaneo o permanente il vantaggio il terzo vantaggio che non è necessario usare gli occhi quindi è particolarmente utile l'interfaccia vocale quando stai camminando per esempio quindi per esempio classico uso è del navigatore il navigatore che io utilizzo anche mentre cammino a volte o in auto e quindi poter in qualche modo essere guidati da un'interfaccia in output appunto senza senza dover avere gli occhi su uno schermo quarto vantaggio si possono fare più cose insieme ad esempio guidare qui certo bisogna fare attenzione perché alla guida è sempre bisogna fare attenzione a non a non a non distrarsi per carità però immaginiamo anche solo al fatto che tipicamente si ascolta la radio si parla con altre persone per cui quando ci troviamo a fare attività con un basso carico cognitivo insomma che non richiedono un impegno particolarmente profondo quando riusciamo a fare anche altre cose utilizzando l'interfaccia vocale per esempio potrebbe potrebbe essere non so ascoltare l'email o ascoltare un messaggio punto 5 quinto vantaggio che è un'interfaccia che ad oggi è piuttosto affidabile l'ultimo dato che ho trovato in google io in cui nell'intervento in cui google parlava dell'affidabilità parlava di un tasso di errore del 4,9 per cento cioè significa che 5 parole su 100 secondo il motore di rendering di comprensione di google 5 parole su 100 le sbaglia quindi le altre 95 le azzecca secondo un benchmark invece che è più recente del 2020 che però è stato fatto su di parole proprio su dei costrutti dei dialoghi complessi si parla di un tasso di errore medio del 20 per cento sugli ultimi quindi comunque un ottimo tasso di affidabilità diciamo possiamo contare su una certa affidabilità l'ultimo vantaggio dell'interfaccia vocale che appunto ha incorporato in moltissimi dispositivi ed è oramai diventata omnipresente ce la troviamo dappertutto l'abbiamo nei wearables abbiamo negli auricolari e ne sono insomma testimoni insomma anche prodotti i classici airpods o tutti gli auricolari che conosciamo tutti insomma abbiamo visto che all'inizio sembrava che fossero non so una sciocchezza e invece cominciano ad essere sempre più utilizzati arriviamo però ai problemi dell'interfaccia vocale quali sono i problemi dell'interfaccia vocale ecco non mi sentirete dire probabilmente fare una interfaccia una richiesta vuol dire ehi siri trova il il sex toys shop più vicino a me ecco in questo caso qui probabilmente qui è divertente perché a volte quando faccio quando parlo di questa cosa qui si attivano gli assistenti vocali che sono delle persone che mi stanno ascoltando e quindi vi ritroverete a questo punto nella vostra query di ricerche un'interfaccia vocale di questo tipo che potrete dire no no ma è stata colpa di Enrico quindi no i temi appunto che legati a questi questi ambiti qui quindi di privacy evidentemente potrebbero essere più delicati difficilmente verranno utilizzati nell'interfaccia vocale come anche i temi legati alla salute o alle relazioni personali quindi evidentemente questi sono degli ambiti dove l'interfaccia vocale ha un po di limiti quindi se dobbiamo come dire identificare delle aree dove l'interfaccia vocale può essere poco funzionale appunto quello della privacy quelli dove c'è l'abitudine la tastiera quindi non potrò chiedere ai miei amici sviluppatori di a un certo punto di cominciare a fare coding a sviluppare utilizzando la voce invece che la tastiera come hanno sempre fatto anche se ci sono diverse cose che si stanno sviluppando in questo in questa questa direzione ci vorrà ancora un po e poi abbiamo la disponibilità di banda soprattutto quando abbiamo dispositivi portati come lo smartphone il funzionamento del dispositivo è fatto in modo che deve deve poter collegarsi a internet per fare diciamo per riuscire a decodificare l'audio e trasformarlo in parole in query quindi serve un collegamento a internet stabile no e poi ambiente numeroso ovviamente e ecco la comprensione di parole e di intento quindi quando ci troviamo di fronte a dialoghi particolarmente complessi come può essere quando parli con un manager milanese che ti dice ti ho briffato o quando io parlo con i miei colleghi che che dicono abbiamo deployato il software per l'apprendimento allora lì l'interfaccia vocale magari non è non è l'ideale e avviamo quindi vado a completare la mia parte venendo quindi alle parti di opportunità quali sono le opportunità di un'interfaccia vocale dov'è che quindi abbiamo delle forti opportunità chi è che le potrebbe utilizzare in modo in modo efficace allora tutti quelli che hanno difficoltà difficoltà in input ad esempio a controllare un dispositivo in input ad esempio a scrivere mio figlio per esempio che ha tre anni non sa scrivere un alfabeto potremmo dirlo e quando chiede o si collega al tablet dicendo per google per favore fammi vedere daniel tiger in italiano no anche con una certa gentilezza tra l'altro e quindi tutti coloro che non conoscono il linguaggio come nel mio caso per esempio il codice tutte queste persone possono tranne beneficio tutti coloro come diciamo prima che hanno le mani impegnate hanno le mani sporche o per qualsiasi motivo per per motivi diciamo contestuali non possono utilizzare perché hanno disabilità motoria o di qualsiasi tipo non possono utilizzare le mani quindi possono controllare un dispositivo con la voce e questo è un un altro aspetto molto interessante quindi è accessibile questa cosa qui è un'interfaccia che è accessibile non solo per chi ha difficoltà permanenti o perché dovuta tematiche di salute diciamo così ma per tutti per altre persone che hanno difficoltà contestuali e poi le persone evidentemente che non possono vedere un monitor uno schermo un'interfaccia come i povedenti ciechi anziani c'è tutti quelli che hanno problemi di vista come me come come me che sono costretto a utilizzare un una una protesi no un ausilio per poter vedere altrimenti non vedrei nulla no come me come come stefano se ci togliamo gli occhiali non vediamo probabilmente nulla quindi assolutamente a noi serve può essere utile questa questa ulteriore ausilio questa ulteriore protesi che ci permette di interfacciarci con un sistema e poi tutti coloro che hanno fretta qui qui non so ho sentito citare anche oggi nelle altri durante la conferenza nella parte della didattica a distanza mi immagino questo è il classico quando sono in in didattica di sta nella dad con i miei figli di tre anni e l'altra che ne ha cinque e nel frattempo devo riuscire a gestire più cose contemporaneamente ecco in questi casi qui anche quindi interfaccia vocale può essere utile perché mi consente come dire ho una disabilità cognitiva temporanea perché sono impegnato a fare altre cose e l'interfaccia vocale mi aiuta tantissimo a poter in qualche modo guidare con la voce altri elementi quindi questi sono tutti ambiti interessanti delle opportunità che aiutano molte fasce di utenti lato invece in output difficoltà in output quindi le opportunità che vediamo sulla parte di output quindi è tutti coloro che ovviamente tutti quelli che di prima quindi tutti quelli che hanno input probabilmente ce l'hanno anche in output ma tutti coloro che fondamentalmente non riescono a consultare le informazioni quindi non possono guardare uno schermo perché magari stanno guardando qualcos'altro quindi chi è in mobilità classico esempio in auto in moto in bici a piedi no quindi non posso guardare una mappa e devo sentire un navigatore o esempio il manager che è in auto e non può consultare l'email però può ascoltare l'email o può leggere può ascoltare i dati di come è andata magari l'ultimo invio di mail o come sta procedendo il suo le vendite su determinati prodotti eccetera e quindi avere informazioni contestuali quindi a questo punto passo la parola al mio collega interrompo la condivisione che proseguirà da qui esatto grazie enrico vado con la condivisione del mio schermo bene quindi grazie enrico per questa carrellata di informazioni che ci hai dato sull'analisi un po e alla ricerca che hai fatto intorno a questi dispositivi appunto che hanno portato sul tavolo di tutti potremmo dire la tecnologia della dell'interfaccia vocale dove appunto vui sta proprio per voice user interface e infatti quello che viviamo nei nostri giorni è il fatto che questa tecnologia sia arrivata proprio alla portata di tutti è un po questo il cambiamento tra l'altro anche abbattere diciamo i primi tra i primi che sono arrivati quelli di amazon parliamo di dispositivi giunti nelle nostre case tre anni fa credo forse quattro anni fa dovevamo ordinarli dagli stati uniti quindi anche un qualcosa di piuttosto recente perché in realtà di vui se ne è parlato e se ne è parlato tanto anche in ambito di design in ambito di interaction design da diversi anni però come spesso capita la tecnologia diciamo e il concept non è sempre così pronto da essere erogato nella quotidianità dei servizi perché o non ha un costo accessibile proprio perché in quanto novità non diciamo ancora un costo troppo elevato per essere disponibile alla massa oppure la tecnologia non è abbastanza pronta per far sì che quel concept abbia poi un'esperienza piacevole basti pensare no al allo smartphone o ai tablet o comunque dispositivi che prima che nascessero questi nomi già esistevano cioè dispositivi con dei grandi display che potevamo controllare per fare cose esistevano già da tempo ma o erano costosissimi perché per realizzarli il costo era molto elevato o comunque la tecnologia non era abbastanza diciamo progredita per creare un'esperienza piacevole con questi dispositivi e quando si è avuto il boom di questo dispositivo è proprio perché ecco ha incontrato la produzione di massa avendo un costo più accessibile ma soprattutto la tecnologia era abbastanza matura da creare delle esperienze piacevoli su cui poi abbiamo visto la storia ce l'ha dimostrato è diventata una diciamo un accessorio quotidiano nella nostra vita e quando un prodotto un servizio cambia le abitudini dell'utente che lo utilizza beh ha semplicemente raggiunto il massimo obiettivo cioè non solo le persone lo utilizzano non solo lo accettano non solo piace cioè ti ha cambiato le tue abitudini e lo smartphone è stato questo potremmo dire anche del tablet o comunque i dispositivi touch ad oggi alla portata di tutti visto il costo ma potrei dire anche il risorio e che sta praticamente su ogni casa ormai o quasi dai dati che ci sono e chiederci se anche questo sia un piccolo nuovo cambiamento sull'interazione che possiamo avere verso azioni che facciamo quotidianamente come quelle anche che ha ricapitolato proprio enrico nella sua prima parte della presentazione e in questa seconda parte che vi racconterò io invece vorremmo portare proprio cioè al di là del racconto che ha fatto enrico quindi dei dati che ad oggi ci sono che sono dati di fatto vi vogliamo raccontare come poi questi dispositivi sono diventati anche una soluzione che abbiamo proposto in un nostro progetto in una situazione che ci è capitata di vivere e vogliamo raccontarlo perché anche curioso da capire come siamo arrivati a poter proporre un'interfaccia vocale in un software dove diciamo inizialmente i requisiti le aspettative erano più vaghe ok non siamo partiti con un cliente che ci ha chiesto voglio l'interfaccia vocale per il mio software motivo per cui ve lo racconto facciamo un po anche un passo indietro vi do qualche informazione più per il contesto per farvi comprendere meglio lo scenario di cui sto parlando flowing è un'azienda che diciamo ha come proposizione di valore o meglio si racconta così come proposizione valore disegniamo e realizziamo progetti tecnologici per accelerare crescita e innovazione nell'ecosistema cliente che significa diciamo laddove il cliente ha un bisogno una necessità o un'idea e la tecnologia può abilitare il suo business ecco che andiamo da lui insieme cercamo di capire come fare cosa fare in modo che la tecnologia agevoli appunto il suo business e le sue necessità e risolvi i suoi problemi quindi questo è un po il contesto motivo per cui il caso che vi racconto parla quindi di un software ok il cliente era una tech company il progetto stiamo parlando di un progetto di business intelligence che cos'è un software dbi software di business intelligence sono quei software diciamo potremmo definirli pieni di grafici di torte di tabelle di dati e di matrici cioè sono quei software che solitamente le aziende utilizzano per elaborare dei dati che mettono in input e avere degli output appunto delle elaborazioni dei match tra questi dati in modo che la presa visione di queste informazioni aiutano poi quelle figure professionali a prendere decisioni nel loro lavoro nella loro quotidianità sono software che aggregano dati e li mostrano in un output diciamo utile all'utente che li legge l'utente utilizzatore qual è il target di questo software beh erano gli impiegati stessi della stessa azienda quindi era un software era il loro software per loro gli utenti erano prevalentemente di due diciamo tipologie professionali il settore manageriale e la parte di amministrazione diciamo il se la parte di amministrazione lo usavano lo usano per prendere questi dati e essere abilitati ad effettuare le loro routine del lavoro quotidiano piuttosto che il manager che lo utilizza magari per prendere decisioni o comunque procedere per la loro parte di mansione più manageriale vi racconto anche il nostro approccio perché questo poi che ci porta a capire come siamo arrivati a proporre un'interfaccia vocale tutto parte un po dal metodo agli approcci che ci abbiamo nel senso queste sono un po le basi noi ci approcciamo all'esigenza di un cliente con una discovery che cos'è la discovery a un momento che noi facciamo all'inizio ok è il primo contatto che tutto il team quindi non parlo del contatto diciamo no commerciale d'ingaggio parlo proprio di il team nostro che vada al cliente a cercare di capire di cosa ha bisogno qual è la sua esigenza e diciamo che la discovery non è un pacchetto come dire che è sempre uguale ma la progettiamo ogni volta in modo diverso è un insieme di format di esercizi che facciamo insieme al cliente e ogni volta li calibriamo sulla base dell'esigenza che abbiamo il valore nella consapevolezza che questo momento crea è da 1 a n giorni dura la discovery dipende dalla complessità di quello che dobbiamo trattare e il valore appunto è l'allineamento che si genera la consapevolezza e di solito si esce fuori dalla discovery con il team che ha compreso quali sono i business goal e quali sono le esigenze degli utenti ok in genere si ha anche un'indicazione su quale è la roadmap cioè quali saranno le prossime cose che dovremmo fare cosa abbiamo proposto al cliente cosa abbiamo capito che è necessario fare per risolvere questo problema sviluppare questo prodotto questo software l'altro aspetto che portiamo sempre in campo è la cross funzionalità del nostro team cioè non andiamo in discovery con un tipo di figura professionale ci andiamo con tutte le figure professionali per lo meno con una persona per ogni sensibilità della figura professionale e flowing come figure professionali parte da UX designer UI designer interface developer front-end developer back-end developer fino a cloud architect cioè diciamo tutte la media delle figure professionali che servono per progettare da zero un software ok e questo per noi è molto importante perché questa fase di apprendimento che si ha nella discovery e non è un privilegio di solo alcune figure professionali deve essere alla portata di tutti perché tutti i punti di vista delle diverse figure professionali abbiamo visto portano una ricchezza enorme nei momenti di confronto divergenti e convergenti che i vari format offrono durante la discovery poi c'è il nostro approccio che è molto simile o diciamo viene spesso riassunto con il learning before doing cioè concentriamo subito il cliente sul fatto che capiamo prima cosa c'è da fare poi capiremo il come ok è più importante capire dove ci dobbiamo concentrare dove spenderà il tuo tempo che poi paghi con i tuoi soldi poi andremo a definire bene come farlo tutto quanto è un po coadiuvato dalle metodologie che noi seguiamo da anni tutte quelle metodologie lean agile che ci aiutano a mantenere un focus e una è un approccio procedurale molto iterativo ed incrementale diciamo queste sono le basi con cui noi approcciamo il progetto in questo caso specifico di questo progetto dbi cosa avevamo portato a casa come prime informazioni beh che il business goal era un po la necessità di evolvere questo software e di diffondere il dato che questo software contiene ed eroga e i bisogni agli utenti erano quelli di semplificarlo questo accesso un po come se raggiungere questi dati per loro aveva diciamo l'esperienza di raggiungimento di questi dati di lettura di questi dati per loro era problematico o perlomeno migliorabile ok quindi abbiamo iniziato con una fase di user research per cercare di approfondire un po di più no queste queste richieste cioè abbiamo fatto dei test delle diciamo test con utenti abbiamo fatto le serve abbiamo cercato di capire quali erano i punti di forza proprio monitorando gli utenti quali erano i punti di forza di questo software e quali i punti di debolezza perché un punto di forza è importante da conoscere perché puoi voler far leva lì oppure vuoi colmare i gap quindi è importante invece capire quali sono i punti di debolezza e parallelamente con altri format abbiamo cercato di stressare un po quelle necessità che ci hanno condiviso cioè l'evoluzione del software che intendi cliente per evoluzione del software intendi che devi fare un refattoring ti aspetti un redesign c'è un codice legacy vuoi aumentare le feature ti mancano delle funzionalità vuoi farlo scalare che cosa intendi per evolvere il software e parallelamente anche capire meglio che intendi per diffusione del dato non stai raggiungendo una parte di target una parte di utenza non stai fornendo tutti i dati che vorresti fornire non li fornisci nel modo giusto quindi abbiamo approfondito un po tutti questi aspetti e quello che poi abbiamo imparato da questa prima sessione appunto di learning noi siamo andati insieme al cliente ad esplorare queste cose che beh fondamentalmente il software era usato in solo lettura o meglio il software genera dei dati quindi qualcuno ce li mette dentro ma veniva fatto o da figure professionali che sono preposte per quella per quella mansione lì o la maggior parte da automatismi quindi da vari crm da vari software che loro avevano che mettono dentro questi dati quindi l'inserimento era apposto era proprio la lettura al problema ok e una cosa molto importante che è emerso è che la lettura cioè l'accesso a questo software era l'esperienza perlomeno di accesso a questo software era considerata noiosa macchinosa era un momento in cui no il mood del dell'utente utilizzatore andava un picco verso il basso c'era qualcosa da sistemare lì e infatti è emerso che questo dato è una necessità che a loro serve a volte parallelamente a quello che stanno già facendo e nelle interviste è emerso quindi anche un qualcosa che poteva essere una key feature cioè ce l'hanno espresso proprio come a noi utenti piacerebbe continuare a fare quello che facciamo nel nostro dispositivo che sia un computer o un tablet e vorremmo avere quel dato nel momento in cui ci serve senza bisogno di fermarci andare a aprire il software fare tutto il percorso per aggiungere quel dato e leggere finalmente quel dato perché poi noi magari il dato che ci serve è un dato o una serie di dati che è un utilizzo repentino e momentaneo per tutto un flusso di attività che sto facendo nella mia giornata lavorativa è emerso poi un'altra informazione importante cioè che per il meccanismo del software stesso alcune categorie di utenti erano proprio precluse dall'accesso anche per un discorso di disabilità ma come diceva Enrico disabilità che possono essere anche di contesto non solo permanenti o fisiche quindi anche situazioni particolari in cui io non riuscivo ad accedere a quelle informazioni ad software e quindi non potevo avere quel dato che mi serviva e quindi qua c'è scattata un po' la mola di dire ok ma potenzialmente se l'evoluzione che voi intendete del vostro software fosse un'integrazione con un'interfaccia vocale che cosa ne pensate abbiamo provato a proporre al cliente perché secondo noi l'integrazione con un'interfaccia vocale avrebbe fornito un accesso alternativo ovviamente e avrebbe permesso una fruizione di questo dato in modo parallelo proprio perché fatto con un dispositivo esterno con una interazione di un altro tipo quindi non devi interrompere il flusso di quello che stai facendo nel tuo dispositivo primario sia che sia un desktop sia che sia un device touch e oltretutto avrebbe anche ridotto alcune barriere che erano emerse di quel software cioè chiaramente l'interazione vocale per tutti i motivi che ha spiegato prima enrico a un a delle barriere inferiori rispetto ad altri tipi di accesso al software che richiedono meccanismi dispositivi diversi e quindi siamo entriamo un po nella fase di progettazione visto che l'idea aveva stuzzicato anche anche il nostro cliente per essere certi di prendere un po la strada giusta abbiamo fatto ancora della ricerca quindi ancora un po di fase di learning dato che il progetto che vi raccontiamo è di penso i primi dei anni primi mesi degli anni 2000 abbiamo fatto un po ritro su un semestre precedente quindi cadiamo un po nell'ultima parte del 2019 siamo andati ad analizzare un po i dati di questi smart speaker e effettivamente ci siamo resi conto che l'ico di amazon piuttosto che il google home di google erano un po quelli più diffusi poi a conti fatti probabilmente l'ico di amazon era quello più presente nelle nostre case quindi avevamo un vantaggio esperienziale cioè essendo più comune era più probabile che le persone avessero trovato più familiare l'utilizzo in questo dispositivo e infatti alla fine poi sempre grazie a alcuni dati raccolti google home era leggermente in svantaggio e anche altri di terze parti non erano non avevano fette di mercato rilevante motivo per cui alla fine abbiamo optato proprio per come dispone di amazon ovviamente questo è basato su un cloud e ha bisogno di una connessione internet ovviamente oltre anche a un account utente per collegarlo alle informazioni dell'utente utilizzatore ma non è niente di più di quello che ogni software web based comunque una web application ha bisogno per funzionare comunque una connessione internet per accedere ai dati è un'autenticazione dell'utente che lo sta utilizzando di base questo smart speaker di amazon è composto da due parti c'è una parte fisica che è l'ico ovvero questo dispositivo fatto dall'altoparlante o dall'altoparlante più il display perché alcuni di questi hanno anche un display e poi dalla parte software cioè quella dell'intelligenza ok quello che diciamo elabora le informazioni delle richieste vocali che appunto chiama alexa e non a caso alexa poi è anche la parola per invocare diciamo questo dispositivo l'amazonico ha diciamo meglio questi smart speaker perché in realtà ce l'ha anche quello di google ha delle ha un'importante funzione che è quella che poi è stata chiave per poter proporre al nostro cliente proprio questa soluzione interfaccia vocale c'è uno smart speaker quando lo compriamo arriva già con una sorta di funzione interna ok tutte quelle funzionalità standard chiamiamo che lo smart speaker ha già interne come per esempio l'esecuzione di brani musicali l'impostazione di sveglie delle routine dei promemoria la ricerca di alcune informazioni online però noi possiamo anche fare delle nostre applicazioni da inserire nel nostro smart speaker per aumentare le sue capacità è un po' come quando noi creiamo un'app per il nostro smartphone solo che in questo caso la stiamo creando per lo smart speaker e nel caso del smart speaker ico di amazon si chiamano skill cioè appunto come se noi dessimo delle competenze in più al nostro smart speaker e il vantaggio di una skill è che ci permette di scrivere codice nostro per potergli far fare delle cose in più che lui nativamente quando lo compriamo non fa ora qua va aperta una parentesi nel senso che la tecnologia che utilizza lo smart speaker di amazon ma in realtà anche gli altri sono tecnologie potenzialmente alla portata cioè per esempio lo stesso smart speaker di amazon utilizza le speech recognition ipi che sono che è il grosso dello sviluppo che ha fatto amazon che il funzionamento anche primordiale di questa intelligenza artificiale sta tutto dietro quel meccanismo lì cioè quel riconoscimento vocale e della restituzione del dato dopo l'interazione vocale che ho fatto quel lavoro lì in realtà potremmo farlo utilizzando le speech recognition ipi di amazon ma sarebbe un lavorone e anche molto costoso quindi in questo caso ci sembrava molto più saggio utilizzare un dispositivo già pronto che ha questo meccanismo funzionante ovviamente con più vincoli di personalizzazione ma che grazie alla skill saremo riusciti a surclassare cioè quindi era un giusto compromesso tra non reinventare una ruota dato che aziende ci hanno investito per anni per produrre questa tecnologia ma sfruttare la parte customizzabile che potevamo avere cioè di scriverci un nostro software una nostra skill da inserire dentro lo smart speaker di fatto tecnicamente una skill infatti è una lambda in js in realtà per noi è familiare il javascript ma può essere scritta anche in python in java in cui poi maneggi le api con cui ti interfacci con tutto quello che c'è dietro al servizio di amazon quindi la nostra proposta al nostro cliente è stata proprio ok facciamo un mvp quindi anche qua metodo iterativo e incrementale cioè visto che è un po un esperimento no cioè cerchiamo di capire come portare la mole di dati che tu hai nel tuo software dbi renderle fruibile da uno smart speaker ma prima di fare un'analisi di quanto costa fare tutto il software dbi che è immenso facciamo una cosa più piccolina cerchiamo di capire se questo funziona se risolve il tuo business goal di che lo vedi come evoluzione del software e che volevi diffondere il dato e lo vedi e lo misuriamo anche con le aspettative degli utenti cioè se vedono in questo modo semplificare l'incesso di accesso alle informazioni e quindi facciamo una skill per alexa che abbiamo individuato essere uno smart speaker dalla giusta diffusione per quello che vogliamo fare ci facciamo questa skill e la interfacciamo con il software dbi e il cliente diciamo è stato molto contento ha approvato questo spunto di procedere e quindi siamo partiti con il nostro team ovviamente sempre team cross funzionale è una cosa in cui creiamo molto infatti parallelamente ancora eravamo in una fase diciamo di learning dove dovevamo apprendere altre informazioni prima di costruire proprio i primi mattoncini di questa skill non a caso la parte tecnica dei developer hanno proprio verificato con uno spike tecnologico la fattibilità cioè la prima cosa è allora riusciamo a parlare con una skill di alexa con il software dbi perché se non riusciamo a far quello la proposta non ci avrebbe senso e abbiamo investito qualche giornata nel capire questo e effettivamente il software dbi funzionava già con diciamo delle informazioni che erano nel cloud e quindi non è stato difficile raggiungere lo stesso punto del cloud per prendere quei dati quelle informazioni ed elaborarle nella nostra nella nostra skill parallelamente con i designer che abbiamo fatto siamo ritornati dagli utenti quindi diciamo settore manageriale settore amministrativo abbiamo cercato di capire ok ma quali sono quei dati che voi utilizzate più di tutti quotidianamente c'è ci sono dei pattern d'utilizzo che si distinguono dagli altri dovevamo identificare qual era quel dato che per la maggior parte di casi serve nelle routine quotidiane e quindi anche qua con i test con loro abbiamo tirato fuori potenzialmente quel diciamo quei dati che risolvono il 70 per cento delle loro richieste essendo un mvp dobbiamo comunque fare la scelta delle priorità no troviamo saggio anche da un punto di vista incrementale e anche perché volevamo controllare lo sforzo economico del cliente non è una cosa in cui vai apri i rubinetti del portafoglio che qualcosa faremo è proprio un discorso diamoci un budget tiriamo fuori con questo budget delle risposte importanti e anche un qualcosa di funzionante in grado da essere valutato per prendere decisioni future anche più importanti in caso e quindi abbiamo iniziato a lavorare e abbiamo tirato fuori diciamo una delle prime fasi è proprio quello di capire ok mettiamo giù un flusso qui adesso ho adoperato un'immagine in questo slide ma comunque ve la racconto non è altro che il flusso è il percorso che noi ci immaginiamo che avremmo dovuto fare nell'interazione vocale dello smart speaker tenendo conto della tassonomia già esistente del software che significa il software c'ha già una sua tassonomia che gli utenti lo utilizzano con il computer o con il tablet diciamo c'ha una sorta di no di menu primo secondo terzo quarto livello fino arrivare alla forma tassonomia che già esistente non potevamo stravolgere quello che già era esistente ma dovevamo raggiungerlo ok e quindi abbiamo progettato questo flusso grazie alle informazioni prese con gli utenti in modo da in modo che sapevamo quali erano i dati che loro utilizzavano maggiormente volevamo raggiungere quelli e dovevamo farlo seguendo la tassonomia che già esisteva nel software successivamente a questo viene prodotto un diagramma conversazionale che cos'è cioè è un diagramma di flusso dove noi mettiamo in evidenza gli snodi conversazionali di cui abbiamo bisogno per interloquire con il con lo smart speaker in ottica di raggiungere i dati che ci servono e qua c'è un po' la complessità di come si sviluppa una skill diciamo che la skill di base è composta da due macro anime no che è il 100 per cento del lavoro che va fatto un 50 per cento è il codice cioè devo scrivere del codice per interfacciarmi con le pia di amazon e per far fare le cose che servono a me nel nostro caso è il ponte no tra i dati del software dbi e le esigenze delle pia di amazon l'altra metà è la progettazione e la conversazionalità cioè noi dovevamo creare degli accessi che sono chiamati intenti cioè sono le richieste che l'utente fa in base a quello che vuole sapere dallo smart speaker e questi intenti hanno focus e granularità diverse cioè io devo poter chiedere una cosa secca e specifica e ricevere la risposta che magari corrisponde alla foglia nella tastonomia cioè faccio una domanda per avere il dato che sta già alla fine della tastonomia devo poterlo prevedere nella mia esperienza conversazionale allo stesso modo devo anche preparare l'utente a un'esperienza in cui non sa ancora di preciso cosa vuole chiedermi deve scoprirlo insieme a me chiedendolo quindi devo offrire un percorso più lungo meno granulare ma che piano piano fatto di domande risposta che lo porta a diciamo ricevere il dato che vuole e all'interno di questa di questa progettazione conversazionale ci sta anche poi il raffinamento successivo che è sul lessico cioè quali sono i termini che innescano cosa quali sono le diciamo il modo più equilibrato per dare la risposta sulla base del dato che noi abbiamo dalla bi quali sono i punti di uscita in caso di errore o nel caso l'utente non si ritrovi quindi diciamo questo diagramma di flusso diventa più o meno complesso in base a il focus che gli vogliamo dare ok ovviamente quello che non deve venire fuori è un'esperienza vocale a modo di call center cioè che eh menu uno eh questa voce dica due per questa voce dica tre per cioè quello è un call center ok quello però allora tanto vale lo faccio col mouse se devo seguire la tassonomia paro paro allo stesso passo allora tanto vale che clicco col mouse il vantaggio dell'esperienza vocale non mi avrebbe accelerato né migliorato niente ok però prendiamo subito un palo cioè nel senso o meglio non tanto subito perché avevamo già fatto tutta la parte di software avevamo esposto i dati della bi nel modo giusto l'avevamo ripresi e portati erano disponibili nel nostro smart speaker li stavamo interrogando stavamo applicando il nostro diciamo la nostra conversa conversazionalità la stavamo costruendo quando arriviamo al caso in cui lo smart speaker ci doveva restituire il valore del grafico ok in questa slide ho messo un grafico ma adesso ve lo racconto eh questo è un grafico eh tipico che è presente in una bi anzi ci sono anche un po' più complessi qualcuno un po' più semplice ma diciamo questo è un istogramma di base anzi per dirla tutto è un istogramma sovrapposto a un grafico a linee ok quindi eh nella parte bassa nell'asse delle ascisse abbiamo i mesi da gennaio a dicembre nella nell'asse delle y abbiamo a sinistra un dato che è quello della media era una media delle dei ticket aperti credo eh e gli istogrammi quindi fanno riferimento a questa media ok sono le barre sono alte in base alla media dell'asse delle y e ce ne saranno 12 per tutti i mesi nel lato destro c'è un altro dato che è quello che invece prende riferimento la linea che è sovrapposta all'istogramma che invece era un dato quantitativo ok quindi è un grafico che in realtà somma due grafici dove i due assi eh no delle y sono uno a sinistra e uno a destra perché uno ci fa riferimento ci fa riferimento agli istogrammi e l'altro ci fa riferimento alla linea questo grafico quando diciamo composto da dati che venivano fuori dalla business intelligence quando veniva a letto dal dispositivo dall'alexa diciamo dall'ico veniva letto così cioè gennaio media 18 per cento quantità 712 febbraio media 19,3 per cento quantità 580 marzo media 111,2 per cento quantità 208 e via via fino a dicembre per 12 volte e questo era un fail totale perché cioè come dire avevamo semplificato tutto l'accesso a a al software e al dato riducendolo a una semplice no interazione vocale parallela a quello che stava già facendo l'utente quindi tutto quello che volevano poi quando arrivava al dato questo veniva fornito in un modo prolisso e inaccettabile ok quindi come dire eh a questo punto era inutile aver migliorato tutto il processo prima se poi quando arriva al dato che mi serve me lo dai in un modo comunque noioso e prolisso e allora cosa come abbiamo reagito abbiamo detto ok facciamo un'intervista con degli utenti non vedenti e ci facciamo aiutare gli chiediamo come vorreste che un grafico di questo tipo venisse raccontato aiutateci a capire come un grafico di questo tipo deve essere raccontato perché perché il valore del grafico alla fine è quello del colpo d'occhio e nello smart speaker il grafico dovevamo raccontarlo non c'è il colpo d'occhio e quindi voglio dire utenti non vedenti ci avrebbero aiutato a capire come questo grafico avremmo dovuto raccontarlo e infatti ho appuntato qua un paio di cose che abbiamo imparato proprio a queste interviste con gli utenti e ci hanno detto non pensate al grafico come matrice di dati ma come semplificazione della mole di informazioni che contiene per comprendere le relazioni tra essi delle varie dimensioni cioè una cosa come non vi focalizzate sul fatto che il grafico è partorito da un insieme di dati che si intrecciano ma pensatelo come la relazione di questi dati che il grafico stesso evidenzia proprio per il valore che dà il grafico stesso un altro spunto importante è stato estrapolate una narrativa che racconti cosa quel grafico sta mettendo in risalto quindi una cosa che ci ha cambiato proprio l'approccio è raccontare il grafico il grafico va raccontato non va semplicemente erogato per il dato che lo compone e quindi abbiamo pensato proprio di mettere cioè di capire sempre insieme grazie a questi utenti di capire cosa e anche agli utenti dell'amministrazione i manager che utilizzavano la bia e capire ma voi di questo grafico qual è la cosa più importante no che se noi faccio un attimo un passo indietro sulle slide il colpo d'occhio di questo grafico è che l'istogramma di febbraio è più alto di tutti o che la riga la linea di febbraio è quella più bassa quindi è quello il valore che mi dà il grafico non tanto la totalità dei dati messi a matrice e quindi abbiamo cambiato utilizzando comunque sempre gli stessi dati che arrivano dalla bia e che arrivavano al nostro smart speaker abbiamo però cambiato la conversazionalità del racconto che girava intorno a questi dati e quindi l'output era una cosa un po' un po' diversa ok quindi diventava una frase di questo tipo nel 2021 il picco di interventi si è tenuto a marzo con una percentuale 38 per cento a differenza del 2020 quando a marzo la percentuale fu del 34 per cento a seguire gennaio con 36 aprile con 32 vuoi approfondire quindi qua di nuovo lo smart speaker si propone come continuazione della conversazione perché può darsi che non ti ho dato subito il dato che vuoi anche se ti ho dato in 12 secondi l'informazione principale che il grafico trasmette a colpo d'occhio poi se l'utente dice no ok hai ottenuto quello che vuoi se mi dici sì potevamo prevedere un approfondimento quindi magari venivano dati i dati di confronto degli altri due mesi successivi più rilevanti quindi gennaio 2021 36 per cento gennaio 2020 35 e quindi è fatto un più 1 per cento che era un'altra informazione che abbiamo capito essere importante infatti quello che abbiamo capito è che non era tanto l'unico il singolo grafico ad avere un valore ma la composizione dei grafici e non software dbi la pagina praticamente è fatta da soli grafici tabelle dati torte e due grafici messi vicino il valore ce l'hanno entrambi nemmeno solo uno perché probabilmente molto spesso vogliono confrontare l'andamento dell'anno prima con quello dell'anno corrente e quindi sono i due istogrammi messi vicino che nel colpo d'occhio danno l'informazione che l'utente cercava cioè sapere se il mese di quest'anno è stato migliore o peggiore di quello dell'anno scorso se abbiamo avuto più richieste o meno di assistenza questo vale per tutto il tipo di dato anche costi e piuttosto che vendite remunerazione tutto il dato che contempla poi una business intelligence quindi diciamo che questo qua ci ha dato un po una svolta sulla rappresentazione conversazionale di questo dato poi dato che alcuni dispositivi ico comunque hanno un display abbiamo voluto corroborare l'informazione anche con il grafico stesso cioè ci siamo detti ok fico come lo stiamo raccontando però comunque se hai la possibilità di avere un display io il grafico comunque te ce lo metto perché il dato ce l'ho lo ricostruisco e quindi abbiamo comunque aiutato a chi colpo d'occhio ce lo poteva mettere ok quindi il risultato qual è stato un po la fine cioè il business col che ci chiedevano era evolvere il software e diffondere il dato e la via in effetti ha evoluto no il modo di fruire i dati ha consegnato una modalità di accesso diversa a questo software e l'ha reso anche più immediato e alla portata agli utenti lato utente quindi il gol lato utente era la semplificazione dell'accesso delle informazioni o comunque dopo la user research avevamo capito che era anche migliorarne l'esperienza di frizione di questi dati e la via l'ha reso inevitabilmente più semplice perché come dire con un'interazione vocale parallela all'esperienza che stai già facendo puoi attingere a cui dati e ovviamente ha abbattuto anche tutta una sorta di barriere che era derivata dal modo in cui noi potevamo accedere al software che era solo quello del click del mouse o del touch ma cosa ha fatto la differenza beh ci siamo portati a casa questo insegnamento la differenza l'ha fatta l'accessibilità e l'utente cioè abbiamo ascoltato l'utente questo è stato un po fondamentale ma soprattutto abbiamo applicato un principio l'accessibilità no tra tutte le raccomandazioni che l'accessibilità ci dà sul mondo dello sviluppo software e applicando anche un solo principio di questa noi abbiamo realizzato un qualcosa che ha dato beneficio a tutto il target di utenza ok quindi è stato un beneficio proprio per l'utente generale di questo software e quindi ecco diciamo il cliente per noi è stato un win questa esperienza è stato un un MVP che ha soddisfatto l'esigenza del nostro cliente perché non si aspettava un'evoluzione di questo tipo quindi l'ha colpito poi come dire questo tipo di soluzione ammicca molto anche il marketing no perché comunque un dispositivo di ultima generazione a diffusione stai nella bolla di quello che si sta sviluppando adesso quindi ha restituito al cliente potenzialmente sotto certi aspetti anche di più perché ha dato anche un volano proprio lato caratteristiche del software stesso e chiaramente siamo stati in grado di soddisfare le esigenze dell'utente utilizzatore in un modo un po' disruptive perché non si aspettavano un accesso diverso un altro dispositivo erano più focalizzati a migliorare un qualcosa del software stesso invece potenzialmente il software stesso noi non l'abbiamo nemmeno toccato anzi abbiamo cercato di non modificarlo per non impattare anche sui costi di altre di altre implementazioni ma abbiamo creato un qualcosa di diverso di parallelo e questa è stata quindi un po' la nostra esperienza ok allora ci riattiviamo aspetta solo un attimo Alessandro intanto vi dico che l'ultima slide che hanno mostrato che ha mostrato Alessandro conteneva i loro riferimenti se volete contattarli potete beh li trovate su discord perché ho visto che sono già molto attivi e ve l'avevo già detto li trovate su linkedin eventualmente vi lascio anche le loro email se volete contattarli che sono enrico punto maioli chiocciola flowing punto it flowing scritto firenze livorno otranto washington imola napoli genova e alessandro punto violini chiocciola flowing punto it va bene allora ci sono un paio di domande che sono arrivate su discord vi dico prima intanto che emanuele vanossi invece su youtube dice state condividendo degli insight utilissimo mio parere complimenti per cui grazie a te emanuele per il feedback invece su discord abbiamo antonio schiavone che ci che fa due domande la prima domanda era per farei a Enrico perché era relativo alla sua parte di presentazione in sostanza ed era relativo al tasso di errore degli smart speaker e chiede se il tasso di errore è quello del 5 per cento del 20 per cento di cui hai parlato sono relativi dati relativi alla lingua inglese quindi solo a quella lingua e se esistono dati comparativi degli errori fra le varie lingue allora intanto grazie per la domanda devo ammettere che ho visto la domanda su su discord per cui ho googleato nel frattempo ho fatto delle ricerche vedere se c'era qualche cosa effettivamente non ho trovato delle comparazioni perlomeno c'è una come una pubblicazione con una comparazione che è molto del 2006 quindi la lascia riperdere però sì i dati che che ho mostrato riguardano la lingua inglese la maggior parte delle ricerche riguardano la lingua inglese c'è però guarda ci cito ci cito appunto questo che è un una una piattaforma dove che si chiama evalita che è proprio un gruppo di lavoro che ha lo scopo di valutare come vengono sviluppate le interfacce vocali come dire la gli speech tools quando parla di natural language process o nlp in italiano quindi qui vengono pubblicate ho guardato un po' di informazioni e potrebbero esserci quelle informazioni che che puoi cercare se ti interessa l'argomento però purtroppo non ho trovato approfondimenti specifici per l'italiano ok giusto per completezza vi dico che il sito web è raggiungibile è evalita.it così almeno è facile anche eventualmente da recuperare per chi non per chi non dovesse essere dovesse avere delle disabilità magari visive la seconda domanda sempre di antonio schiavone invece relativa alla parte di presentazione fatta da alessandro è relativa ai requisiti di sicurezza presumo della skill che è stata scritta per permettere l'accesso ai dati del software di business intelligence e come avete gestito eventuali accessi non autorizzati grazie antonio bella domanda e ho parlato durante la mia presentazione della cross funzionalità del team e qua ci sarebbe voluto proprio il cloud architect che sicuramente sarebbe stato contento di approfondire questa domanda anche per altri casi perché comunque è molto importante nell'aspetto della sicurezza quando si parla di questi smart speaker e dell'interazione con essi e anche quando si creano delle skill in questo caso eravamo in un MVP all'interno dell'azienda quindi non avevamo esigenze di sicurezza restringenti l'MVP lavorava proprio sulla consapevolezza della fattibilità di questo e nel misurare l'esperienza e la bontà appunto di questa soluzione che poi alla fine ha riscontrato, ha rispettato le aspettative che c'erano di fatto parliamo di alcuni smart speaker che sono stati messi su un paio di uffici e quindi abbiamo fatto, vado a memoria, un unico account utente lato cliente quindi diciamo non era nemmeno un account personale della singola persona ma era un account utente loggato in quello smart speaker e quell'account aveva l'accesso a diciamo all'autenticazione dei dati cloud così come il software che usavano già desktop nel loro ufficio ce l'aveva per prendere i dati al loro software quindi diciamo dal punto di vista del meccanismo non c'erano esigenze restringenti lato sicurezza se c'hai invece qualche domanda in più sulla parte più tecnica magari dell'autenticazione di come è stato fatto questo qua puoi utilizzare la mail che ha detto prima e scrivermi che sarà un piacere che la girerò proprio a ingegneri del software magari danno una risposta anche su questo qua se ti interessa approfondire perfetto grazie aggiungo io una mia domanda che mi interessa io ammetto che la prima volta che ho sentito, che ho pensato all'uso degli smart speaker in realtà era stata in occasione di una conferenza in cui un partecipante mi ha detto ma secondo me il futuro anche per l'accessibilità sono gli smart speaker per cui in realtà io sono un anno e mezzo grosso modo che io penso all'uso possibile degli smart speaker all'interno dell'accessibilità c'è una domanda che mi sorge però anche dal punto di vista dello sviluppatore avete detto che le skill per questa skill che è stata progettata non so se questo sia poi un esperimento isolato se avete progettato altre skill presumo che ne abbiate progettate altre quindi che abbiate esperienza in vari ambiti quanto sono quanto possono può essere riutilizzato il codice che viene scritto per un certo tipo di dispositivi anche su altri dispositivi perché ovviamente noi io parlo dal mio punto di vista di sviluppatore di sviluppatore web di livello scarso però faccio quello in cui in realtà io scrivo il codice tra virgolette una volta sola e questo codice poi dopo viene interpretato dai diversi browser magari in maniera leggermente diversa ma diciamo che sostanzialmente c'è cross compatibilità con gli smart speaker questa cosa c'è o è ancora un passaggio per cui ogni smart speaker ha il suo linguaggio e quindi bisogna adattarsi alle esigenze del singolo smart speaker allora sì la risposta è che è diverso ma non è un per due nel senso Google Home va scritto in un altro modo ovviamente il paradigma risolutivo lo riutilizzi però la parte di scrittura la devi rifare dato che sei uno sviluppatore ti rispondo così paragonalo a un porting un porting non è un ex novo ma è un po' come ho scritto il gioco per Commodore 64 lo devo fare per Atari quindi è un porting non è tutto il tempo per due e oltretutto lo sviluppo del codice è il 50% dello sviluppo di una skill l'altro 50% è tutto il lavoro sulla progettazione parliamo di user research e diagramma conversazionale flussi quella parte lì è esattamente identica quindi adesso volessimo tirar fuori un numero della totalità di un costo togli un 50% togli un altro qualcosina diciamo di tempo necessario che hai utilizzato nel primo device e che lo devi rifare sul secondo ecco non è proprio un per due però sì non puoi copiare incollare e ce l'hai funzionante anche sull'altro smart speaker e ti parlo di Google Home nel senso i due su cui abbiamo fatto sempre valutazioni sono questi due anche per fetta di mercato che c'ha perché gli altri fino a qualche mese fa era anche abbastanza inutile contemplarli giustamente perfetto grazie vediamo se nel frattempo è arrivata qualche altra domanda allora se non sono andata l'altra domanda volevo aggiungere una cosa sulla sicurezza che effettivamente è un tema molto interessante ma in senso come dire generale perché il tema anche proprio degli smart speaker e dell'utilizzo dello smart speaker per esempio in famiglia c'erano anche proprio dei video molto divertenti su questo il fatto che è così accessibile cioè un'interfaccia così accessibile cioè con la voce a distanza in più persone crea proprio di fatto la possibilità per più persone di poter entrare nel sistema in questa interfaccia in un certo modo cito proprio dei mi viene in mente proprio un video molto divertente dove c'era una famiglia che litigava perché volevano tutti mettere delle canzoni differenti e quindi tutti entravano su Alexa per poter in qualche modo cambiare musica e tutti gli altri dovevano subire la musica che veniva ascoltata in qualche modo e quindi effettivamente è un tema questo di poter avere un accesso concorrente a questo dispositivo e per cui ci sono tutti un tema come dire di qualche modo di identificazione del pattern dell'impronta biometrica ecco per poter dire sì, no, forse insomma puoi fare cose oppure no è un bel tema secondo me questo sì, in realtà diciamo che Amazon ha fatto un'evoluzione riconoscendo la voce nel senso in grado di riconoscere chi è l'attore che parla quindi se gli chiedi proprio chi sono lui dovrebbe riconoscere se sei il proprietario dell'account o no o se sei un'altra persona chiamandoti per nome se ti sei registrata facendo il processo di registrazione vocale Google mi sembra che su questo addirittura è più avanti perché è molto più collegato all'account quindi penso proprio che alcune cose non le puoi fare se non sei tu proprietario dell'account vado un po' a memoria non so sicuro però sì, indubbiamente questo è un aspetto che evolverà ma come dire sono talmente novità queste che non stiamo noi usufruendo di un prodotto finito noi stiamo usufruendo di un MVP ancora cioè una cosa che evolverà e migliorerà negli anni basti pensare che non c'è nemmeno la parte burocratica legislativa adesso all'altezza cioè ci sono dei buchi enormi anche sotto questo aspetto quindi è un qualcosa che sta facendo strada e nei prossimi anni ovviamente evolverà e si regolarizzerà perfetto allora noi siamo sostanzialmente in chiusura di sessione perché abbiamo esaurito tutto il nostro tempo a disposizione che siamo riusciti a riempire tutto complimenti anche perché avete riempito per l'appunto proprio tutto il tempo che avevamo io vi ringrazio di nuovo è stato un intervento molto interessante spero di rivedervi nuovamente agli Accessibility Days quest'anno l'anno prossimo altre conferenze anche perché visto che giriamo abbastanza per le stesse conferenze grazie a tutti Grazie a tutti.